Ciao ragazzi, oggi secondo video recensione, non sempre vi siete uguali, è già la seconda volta che provo di registrare perché ogni volta che registro aprono la porta e rompono le scatole, quindi ricominciamo Oggi vi vorrei recensire due prodotti che sto provando da un po' e con cui mi sto trovando benissimo quindi ve lo dico già in partenza, prodotti promossi Uno è per i capelli e l'altro per il corpo, allora partiamo con quello per i capelli lasciate stare le scritte che mia mamma ha disegnato Comunque è un balsamo maschera che si chiama Serie Expert Pro Keratina Liss Unlimited ed è la maschera lisciante con formula professionale Questo qui l'abbiamo acquistato da una parrucchiera, però è reperibile anche in altri posti Lo trovate per esempio anche al Determarket, io ce l'ho visto qualche giorno fa Questa è la confezione, da 250 ml di prodotto, 12 mesi dall'apertura Però l'ho visto identico adesso con la confezione da 200 ml, un po' più piccola Al Determarket l'ho visto a 22 euro e devo dire che comunque il prezzo è un po' altino Ma essendo un prodotto professionale ne vale tutti, ve lo dico sinceramente Ovvio che se lo trovate in offerta o comunque dove costa meno, meglio così È un prodotto super concentrato, quindi lo potete utilizzare come balsamo ma anche come maschera Io lo lascio 2-3 minutini e poi vado a sciacquare Li pettino che è una bellezza, cioè non mi si annodano per niente Escono che sono morbidissimi, dopo l'asciugatura sono stramorbidi E soprattutto per chi ha la tinta ve lo straconsiglio Ed è appunto l'Oreal Professional, quindi di quelli che usano le parrucchiere Questo prodotto ve lo straconsiglio veramente perché io, come ho già parlato in altri video Solitamente uso la maschera Avon che costa 4 euro su per giù E ci sono 250 ml di prodotto come in questa confezione Il prezzo è molto molto differente ma poi c'è anche la differenza di qualità Con Avon si districano molto bene Sono anche un prodotto all'Argan però non come questo Questo qui fate così con la spazzola, cioè neanche un nodo E poi soprattutto vi lascia morbidi e profumati Quindi vi consiglio veramente di provare questo prodottino Che non mi è stato inviato, l'ho acquistato io Quindi le opinioni sono mie personali di entrambi i prodotti che vi sto per mostrare Quindi questo qui se lo trovate da qualche parte acquistatelo perché è veramente validissimo Ora passiamo a un prodotto per il corpo Questo l'ho preso in negozio dalla mia sitista Praticamente è uno scrub molto naturale Al bambù, da 400 ml di prodotto Ed è uno scrub sfogliante in gommage Lo potete utilizzare dove volete nel corpo senza alcun problema Sotto alla doccia Allora, se lo applicate senza acqua Andrete a fare uno scrub un po' più... Come si dice? Insomma, andate a rimuovere comunque la pelle morta In maniera un po' più aggressiva, tra virgolette Se invece lo utilizzate con la pelle già bagnata Diventerà un pochino più leggero Io lo utilizzo con la pelle asciutta perché ho la pelle secchissima Me lo sono fatta consigliare appunto perché ho le gambe con la pelle secchissima sempre E molto spesso ho i peli sotto pelle che mi lasciano comunque tante piccole macchette rosse nelle gambe E per risolvere questo problema ho deciso di prendere questo 12 mesi dall'apertura È in microgranuli E fatti così Si chiama Mericore Paris Ed è un prodotto che usano anche loro in negozio Quindi è professionale E il prezzo anche qui è abbastanza altino Però ne vale la pena Poi ne basta veramente una noce E poi vi andate a massaggiare nel corpo, nelle gambe, dove volete Sulle braccia, nelle mani Fa una leggera schiumina Quindi poi quando l'andate a sciacquare non importa che vi date il bagno schiuma Perché fa già comunque da bagno schiuma anche questo Fa proprio una schiumina e vi va a detergere anche la pelle Questo è il prezzo ragazzi 36,50 Mi aveva detto che io l'ho pagato leggermente di meno Perché era in offerta e tra l'altro era l'ultimo Ma ho risparmiato pochi e niente direi Il prezzo è altino ragazzi Però è validissimo Ve lo potete fare ogni volta che fate la doccia senza problemi È straconsigliato La profumazione è delicata Di bambù Quindi Aspettate che vi lo faccio vedere sulla mano Questi sono i microgranuli verdi E quindi andate a massaggiare E vedete che inizia a fare schiuma Vedete Farà questa schiumettina Poi soprattutto adesso è asciutto Ma se usate anche l'acqua ne farà un po' di più E vi toglie veramente la pelle in eccesso E secca Aiuta veramente a migliorare la situazione Soprattutto nelle gambe Però che io ho la pelle che non so come Ma ultimamente è strasecca E quindi niente ragazzi Io adesso vi metto sotto i link Se trovo sui siti internet di questi due prodotti Fatemi sapere anche voi se li avete provati Se state provando anche voi qualche prodotto di questo genere E scrivetemi qui sotto cosa ne pensate E niente Spero che questo video e recensione vi sia stato utile Mettete un bel like E iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto Quindi un bacione grande E al prossimo video Ciao Ciao